io non ti sto indicando oh scusa questo qua è un vlog, come dice ccmp. quindi vlog presentazione di assunto dell'anno, storie cazzate, abbiamo suonato in vari posti, abbiamo cambiato bassista lui, aspetta, fai il calino lui è Fede, no, devi fare così lui è Fede, nuovo bassista l'altro è sparito letteralmente Ragazzi fa molto caldo, oggi è giugno quindi Non sento l'odore però, guarda che io profumo sempre Io profumo, l'essenza di tuo occhio, non lo faccio come di merda, siamo, puzziamo tutti fa un caldo della donna Scusati, va bene, questo lo prendo io, va bene, fa un caldo della madonna, puzza anche cmp Puzza anche cmp, parlate voi del concetto legend perchè io non c'ero, ok, lui tipo ha avuto la tossilite, ragazzi parliamo Cioè in maniera sintetica, abbiamo fatto un metalheads quarta edizione della madonna, sicuramente lui aveva tipo la febbre, è svenuto, ha fatto le case E la settimana dopo avevamo un concerto del legend, tipo è stato sostituito per l'occasione da Bray, perchè Bray è bello, ha fatto un bel lavoro Ha fatto un bel lavoro, soprattutto con i testi Sì sì, è riuscito a dare una scuola Dovete capire una cosa importante, Bray ti puoi si è imparato tutta una scaletta in un giorno Dai è stato bravo, è stato bravo Possiamo dirlo E basta, fine del blog Così? Che è Medana, lui è un amico della band, lui è un nuovo bassista, stai zitto, non sai parlare Non so parlare perchè sono nuovo bassista, dove impara a parlare I bassisti non parlano, non fanno amicizie, non parlano niente, sono persone tristi Capito? E basta Infatti sono tristissimo perché sono un chitarrista Stai parlando Hai ragione, scusa Torniamo qua Alisa Perché siamo Alisa Perché è la fine della scuola Alisa E quindi Bene, seguiteci Aspettate con molta attesa Nell'attesa di attendere il nostro nuovo album Dai, lascio la parola bassista perché mi sono rotto il cazzo Posso? Posso? Tante volte ho detto Isa Tutto bene Isa E niente, adesso ci mettiamo dentro per quest'album qua Tanta cattiveria Tanta cattiveria Tanto sbatti nel farlo però ci mettiamo sotto Sarà un buon lavoro Quindi aspettate la nostra opera d'arte Aspettatevi la peggio Che figa La maglietta molto sottile perché è quella del ricambio Perché cioè, per farvi capire Nel senso che se io metto la cosa così Si vede ancora Direi che possiamo chiuderla qua Si, te l'ho detto, ho visto? Si vede ancora senza problemi Ho la pancia di fuori Ehi, 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 ehi Mirate qua sotto Qua sotto Perfetto, la mia maglietta può essere usata come qualcosa E Ciao Io non c'entro un cazzo Lui è vero, lui è il più grande spettatore mai visto Allora io sono ipocrito E sono entusiasto E ho i diti E a parte i peti belli Questa stagione si sta per concludere L'ultima data sarà il Metallari Festival In cui anche noi di CS parteciperemo come band E anche, beh, gli orrore e altre band a sorpresa Che poi vi diremo Ribellini cattivi I ribellini E poi, cosa diciamo? Beh, annunciamo ufficialmente l'entrata del nostro nuovo bassista Federico Medana Quello col pisallo un po' con l'ho Però le malattie sono come... Quello con la barba Le cose brutte della vita E il Metallari è andato stra bene E siamo molto soddisfatti Abbiamo fatto il Big Monagli Abbiamo fatto, siamo ricchi ora, abbiamo i soldi Esatto, 100 euro No, beh, c'era un botto di gente Siamo contenti Ogni gruppo ha avuto il suo pubblico Che è una cosa che... Ragazzi, ma basta, andiamo via Orlevamo da tempo, quindi roccia e rolla, bella